E' il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra i primi a commemorare la figura di Bianco. Stato d'animo di tristezza per la notizia della scomparsa recita così una nota del Quirinale che ricorda un leale servitore delle istituzioni, politico appassionato, ricco di cultura e umanità. Cultura e umanità sono i tratti che emergono nella miriade di comunicati e testimonianze diramati da partiti di tutti gli schieramenti. Da Gianfranco Rotondi, il primo pensiero alla famiglia, alla moglietina, ai figli Mariella, Fazio e Andrea ci lascia l'intellettuale più coraggioso dei Magnifici Sette, dice Tony Ricciardi, parlamentare del PD che ricorda il legame con Guardia e il ruolo di Presidente dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno ricoperto prima di lui da Fortunato e Croce. Vicinanza alla famiglia Bianco dai sindaci a partire da quello di Guardia, Francesc Antonio Siconolfi. La testimonianza del grande spessore politico, culturale ed umano di Bianco nelle parole di Angelo Antonio D'Agostino, sindaco di Montefalcione. Il ricordo di un fine latinista e uomo della mediazione. Per Pasquale Giuditta, sindaco di Summonte. Cordoglio per il galantuomo e superlativo. Esempio di cultura dal Presidente della provincia Buonopane, dal Partito Democratico Irpino e ancora attestazioni dalla CISL Campania, messaggi che proseguiranno ancora nelle prossime ore e fino al rito funebre. Così, in una intervista del marzo scorso, Bianco diceva dello sviluppo possibile dell'Irpinia, ricordando come non sempre le classi dirigenti, soprattutto negli enti, siano state al servizio dei cittadini, ma immaginando dai giovani e dalla cultura una ripartenza possibile. In Irpina ci sono delle possibilità, delle potenzialità, ci sono delle iniziative che vanno sostenute, naturalmente inquadrate nel progetto più generale che è quello del Recovery Fund. Per esempio nel campo del turismo, faccio un esempio. Cos'è la via Appia che attraversa l'Irpinia, che può diventare come la via Francigena? Penso per esempio alle potenzialità che esistono già in alcuni settori dell'agroalimentare. Penso anche all'attività industriale, perché si è creata una mentalità industriale. Poi c'è un problema fondamentale su cui l'Irpinia deve puntare, che è la formazione scolastica, la cultura scientifica e la formazione scolastica. Qui c'è, secondo me, la grande scommessa, perché le intelligenze erpine ci sono e naturalmente devono essere orientate e sviluppate in questa direzione. Grazie. Grazie.